Alla richiesta del biglietto da parte di un mio collaboratore ha reagito male, cominciando con insulti e minacce pesanti che poi sono state reiterate più volte durante il percorso. Anche a me, a quel punto perché io ho chiamato le forze dell'ordine, che anzi ringrazio che all'istante sono subito intervenute per calmarlo e poi è stato portato via da una volante. E questa la drammatica testimonianza di uno dei due controllori aggrediti su un bus del Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto ha voluto conservare l'anonimato. I due dipendenti del CTP sono stati minacciati mentre effettuavano la verifica dei titoli di viaggio a bordo di un mezzo sulla linea Taranto-Grottaglie, a tal punto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno poi arrestato l'uomo in evidente stato di agitazione. Continuiamo a essere vittima di queste aggressioni, a volte anche fisiche, perché si dice che questa persona nei giorni scorsi abbia aggredito un altro mio collaboratore e questo è ancora in fase di indagine penso, è sempre un rischio per noi. L'utenza è spaventata, si è spostata nell'autobus da una parte all'altra, una signora diceva di avere paura, giustamente sono situazioni che andrebbero evitate. Sulla vicenda interviene anche Francesco Zotti, segretario del settore trasporti della CGL. Nell'esprimere solidarietà ai controllori aggrediti chiede la costante presenza a bordo dei bus pubblici di personale delle guardie giurate armate. A tal fine Zotti si rivolge al prefetto di Taranto per la recrudescenza di episodi di violenza sui mezzi di trasporto pubblico soltanto qualche giorno fa ha aggredito un autista dell'AMAT. Questa soluzione, secondo Zotti, potrebbe rappresentare un deterrente, almeno durante i controlli. Grazie a tutti.